Con Carle Varis direttamente dal Palamarenco di Savigliano Andrea parto chiedendoti che cosa ti ha spinto a scegliere di venire qui a Savigliano e con quale motivazioni arrivi qui? Allora sono qua perché è sicuramente un'ottima occasione di tornare a fare un campionato che ho affrontato una sola volta e che però mi ha dato grandi soddisfazioni e il fatto di poter lavorare nuovamente con Lorenzo o comunque in un posto che anche se da avversario ho conosciuto tantissime volte è un grande stimolo, una grande opportunità Ecco arrivi in una squadra rodata che lo scorso anno ha raggiunto il punto più alto della sua storia e che quest'anno ha alzato l'asticella con innesti importanti tra i quali il tuo che stagione ti aspetti di squadra e quali sono le ambizioni con cui Carle Varis arriva qui a Savigliano personali diciamo? Allora cosa mi aspetto di squadra? È sempre difficile parlare e fare valutazioni in estate prima bisogna iniziare ad allenarsi, a giocare per vedere poi effettivamente a che punto si è e a che punto sono gli avversari Sicuramente sarà un anno combattuto, difficile come sempre in questo campionato proveremo a ripeterci, migliorare non ha senso porsi delle idee in questo momento proveremo a dare tutto e fare tutto quello che potremo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo previsati a livello personale arrivo con grandi motivazioni come sempre sono un finto giovane quest'anno ho lavorato con tantissimi ragazzi e continuerò a lavorare, a spingere al massimo come ho sempre fatto per cercare di dare una mano e di tagliarmi magari anche il mio spazio grazie ciao